Ciao, volevo soltanto dirti che a brevissimo, non appena le comunità energetiche avranno finalmente i decreti attuativi pubblicati sulla gazzetta ufficiale, tramite la comunità energetica avrai almeno 100 euro a megawatt di rimborso per l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico ed immessa nella rete pubblica. Se ti fai due conti con questo tipo di incentivo, il fotovoltaico sarà molto conveniente anche per le aziende o comunque per i possessori di partita IVA. Se questo non bastasse, c'è un altro strumento che utilizziamo molto a beneficio dei nostri clienti, che è il noleggio operativo. Il noleggio operativo ti permette, come indica al termine, di noleggiare per 96 mesi il tuo impianto fotovoltaico. Una volta scaduti i 96 mesi, con una piccola percentuale, potrai riscattare il tuo impianto che diventerà di tua proprietà a tutti gli effetti. Il vantaggio del noleggio è che è fiscalmente detraibile al 100% e durante il periodo del noleggio ovviamente l'impianto nel suo insieme sarà assicurato al 100%. Oltretutto, così facendo, non dovrai tirare fuori di tasca tua subito tutti i denari necessari per la realizzazione dell'impianto stesso. Se hai bisogno di maggiori delucidazioni, hai tutta la mia attenzione. Per adesso ti saluto e ti ringrazio. Un saluto da Marco Fai, il tuo esperto del fotovoltaico. Ciao, buona giornata!